Un giovane gelese di 29 anni è stato arrestato e condotto nel carcere di Gela dalla polizia perché deve scontare tre anni, tre mesi e 17 giorni di reclusione per l'accusa di traffico di stupefacenti. I poliziotti del commissariato della città del Golfo hanno eseguito l'ordine di cattura emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura gelese, una volta che i giudici hanno messo il sigillo sulla condanna dell'imputato, rendendola definitiva. La difesa aveva chiesto anche l'applicazione di una misura più lieve rispetto alla detenzione dietro le sbarre ma l'istanza è stata rigettata. Oltre alla condanna penale nei confronti del 29enne è stato disposto il pagamento di una multa da 6.400 euro.